In certo è solo. A Neoseneca 465 d.C. Filosofo, drammaturgo e politico romano, in lettere all'ucilio, dice «Non è incerta la morte, incerto è solo il tempo della morte. Andiamo incontro a essa senza pregare, né temere, né indietreggiare. Armiamoci contro questo timore che ci rende vili e ci intossica e ci rovina la vita. Bisogna morire, quando? Poco importa. La morte è una legge di natura e il tributo è il dovere dei mortali, è il rimedio a tutti i mali. Questi pensieri devono occupare l'anima nostra, se vogliamo aspettare placidi quest'ultima ora il cui timore rende inquiete tutte le altre». Commento. Prima l'individuo non vuole sentir parlare della morte e la rimuove, poi la osserva quando è costretto a osservarla, infine, quando la sua evoluzione glielo permette, l'accetta come parte integrante e insostituibile dell'incarnazione.